Chiamati ad affrontare una situazione incerta e in continua evoluzione, auspico di trovare una stella polare da seguire. Una politica di piccoli passi. È saggia e sapiente se chi guida sa dove andare e in che direzione tenere la barra dritta per dare senso a quei passi, faticosi, piccoli ma necessari. È il messaggio del Vescovo della Diocesi di Fano, Fossombrone, Caglipergola, Armando Trasarti, che come ogni anno ha inviato gli auguri alla città e agli amministratori del territorio. Il Natale, ha scritto Sua Eccellenza, ci ricorda che il Signore entra e si incarna nelle nostre storie, nei nostri ambienti di vita, soprattutto laddove c'è tristezza e sofferenza. Anche questo Natale sarà segnato dalla pandemia, eppure per noi cristiani è luce, è Gesù il Salvatore, colui che viene a salvarci prendendo su di sé la nostra condizione. Non riusciremo mai a salvare la realtà, la nostra comunità, se non ci facciamo carico, se non ci assumiamo tutti insieme delle responsabilità, Chi amministra un territorio e soprattutto le persone che vi abitano, ha precisato il Vescovo, deve confrontarsi quotidianamente con la concretezza del bene comune, che è vita ordinaria, possibilità di crescita, direi di fioritura, di tutte le risorse e le potenzialità in esse presenti. Sono tanti, ha ricordato, le richieste che vi vengono poste. Siete parte della comunità che amministrate, dalla quale venite e alla quale tornerete. Bisogna essere disposti al dialogo, ha proseguito il Vescovo, vicini al nostro popolo con responsabilità e passione per il bene comune. Un pensiero particolare, poi Sua Eccellenza lo ha rivolto ai giovani. Impariamo ad ascoltare i ragazzi, ha detto. Oggi c'è bisogno di questa attenzione, di camminare insieme a loro, perché presto prenderanno le redini delle nostre comunità. Vi auguro, ha aggiunto ancora Trasarti, di coltivare e incrementare la creatività. Non possiamo vivere una fase di rigenerazione senza uno sguardo ampio. Sono convinto che con l'incarnazione il Signore continui a chiederci di impegnarci con tutti noi stessi all'umanizzazione di questo nostro mondo, delle nostre relazioni, della cura reciproca e dell'ambiente che ci è stato donato. Buon Natale, ha concluso il Vescovo, diventa allora subito buon lavoro, buona cura dei cittadini, buona cura di voi stessi e delle vostre famiglie. Buona vita in pienezza.